E ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono qui tornato su Hellsword in compagnia di un mio fan che non si vuole presentare ed è anonimo Salve Eccolo lì Direi di cominciare facendo... no, tu sei un livello 99, io un livello 71, facciamo dungeon appunto di non livello adeguato Come giusto che sia perché... Eh, giusto che sia ovviamente Eh, quando... Ma hai preso il job, prima di tutto, hai preso il job Sì, c'ho professione, la professione di... Io ormai li chiamo i nomi inglesi perché... Sì, ma tu parlando all'inglese qua ci fai confondere tutti, eh Cacchio Ormai... Il cacciatore di tesori Ecco, va benissimo, il cacciatore di tesori Certe cose che ti dirò adesso, tu non lo sentirai a causa del lag Però quando riguarderai il video, dirai ma che cazzo ha detto? È vero, sì, è vero Tu, eh, aspetta, mi fai fatto una stronzata Rivi, riguarderai il video, dirai ma che cosa, che cosa ha detto questo qua, ma quant'è stupido Trasformati! Aspetta, non mi posso trasformare io Sì, ma non vale che fai tutto tu, dai, mi sento inutile Aspetta, uccidiamo tutti questi Devo far vedere come si vola con lei Eh, mi devi insegnare a volare con lei, che io non sono bravo Ma io sono ignorante Devi essere, mi sta... Allora, ti spiego che dovresti avere il secondo o il terzo stadio li accresci E poi... Devi fare tipo così E così come che sto giù? E poi fare... Sto giù io Oh, guarda questi due ciccioni, dobbiamo uccidere Cioè io Ma fai tutto tu, non vale però Dai, mi sento veramente una persona inutile Ma sono un level, è tutto questo livello E ma io devo farle per le... Mi faccio i segretti da soli Ma non ne fanno più persone come te, onesto Ma guarda quante figa sta schiele che sto utilizzando adesso, questa palla che mi gira attorno qua Uccidiamo... questo si chiama il drogato, lo sai? Bene definito così, viene più, non sto scherzando Da moltissime persone che io conosco, quello semi boss, che è lo stesso boss del secret Si chiama il drogato Sta laggando come il suo schifo Dove vai? Di qua! Non me lo ricordo sto dungeon, non lo faccio da una vita Dai, adesso battiamo subito sta stronza, il premiesque No, dai, volevo vederlo Ma che cosa, che fastidio ogni volta Ma scusa, ma tu, perché facendo il dungeon con te tipo mi si sono formati 300.000 buff? Eh, allora, perché il max che vedi è dell'equipaggiamento che ho Vabbè, ma tu, tu sei troppo forte, cioè non... Ma non riescirei ad arrivare pure tu a stare Mai, no, ma cosa, io non nerdo così come te Adesso andiamo direttamente a fare un dungeon più forte Mettiamo, eh, se schippa Andiamo, visto che Welder l'abbiamo finalmente finita Adesso andiamo all'Anos E poi semmai torniamo indietro e vediamo un po' che cosa fare Eh, ma se ti fai le quest di Elysion sono quasi 100 milioni, eh Ma sai cos'è il problema? Le quest di Elysion io non riesco a farlo Nell'Ital non sono riuscito a farle con il mio Raven potentissimo E Blade Master, figuriamoci qua con l'Ain che neanche lo sto utilizzare Eh, se vuoi ti do... Te le facciamo insieme Ah, poi vediamo Quando ci arriverai Ma con quando ci arriverai intendi col fatto che io non sono bravo e mi stai sfottendo che non ci arriverò mai O perché veramente lo stai... Ti arriverai in livello Ah, non avevo aperto la porta qua Pensavo l'avevo aperto Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Oddio, paura Ti ho dato un buff che ti aumenta il mana Potevi farlo mentre... adesso, non così al vuoto No, vabbè, c'hai 17 secondi ancora Eh, vabbè, vabbè, 16 secondi passano come niente, eh Pensa che io sono arrivato... 17 secondi, finiamo lo stage Eh, pensa che io sono arrivato alla mia età senza neanche accorgermi Questo è il momento depressivo così da vecchio... da vecchiaccio anziano Wow Sai che questi qua che mi stavano uccidendo Oh, e basta! Mi stavano lanciando da una parte all'altra Ma sai che questi qua... questi qua... questi qua che vengono messi tutti in fila, ma li hai visti? Tutti sti pig qua Peppa Pig, tutti i parenti e i cugini di Peppa Pig No, poverini Ma sai che vengono tutti i pig, ma poverini... ma questi che poi sono cinghiali sono, griping Hai fatto la missione Ho fatto... finito? Hai fatto la missione... Ah, la missione sì, ok L'hai fatta tu? Sì, l'ho fatta Come cazzo fai a volare, madò? Mo mi hai fatto una voglia di imparare Eh... dopo ti... ti imparo Ti imparo, madò per bugia Ma sai che ora non c'ho... scusa per l'hyper, ok bene, faccio l'hyper skill, yeah Che è... ma con quanto lag me lo dici, proprio Cioè, ma vai come ha laggato? Io... io faccio questa skill di trascendenza e penso che l'ho sciolto È morto Guarda, è tipo... è inciampato malissimo ed è morto Allora, adesso andiamo a fare garpai rock Andiamo a farci un bel garpai come Ci piacciono, no Perché? Non si fa stoppare Eh no, eh, non si fa così, eh Ma tu hai visto il mio video, quello su... Sull'all, là Quello che avevo fatto... Non quello sullo, quello su... su... sui commenti negativi Le risposte... ancora no, perché non ho avuto tempo ieri Eh, mamma... Mi pare di sì Mamma, ma dividi... la dividi... E' no, ieri, 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 i commenti... Mamma, mamma, i commenti Le risate No, dopo lo vado... dopo lo vado a vedere Mi piscio un po' di risate Prima di iniziare a studiare Eh, naturalmente, io ti faccio... non ti faccio studiare Che cacchio esisto a fare io Appunto, tu non devi fare niente Tu... fammi fare a me Ma no, ma dai Non vale Stavo chiedendo... aspetta, prima distruggiamo sti... sti bastardini qua Ho avuto una laggata pazzesca Cioè, quelle laggate che non ne fanno più No, che cosa fanno? Di quella laggate che incontri solo qui sul Void in PvP Eh, madonna, non me ne parla Che brutti i PvP sul Void No, non lo faccio più, l'ho raggiunto E' un po' di due anni fa Che ho riuscito Ho riuscito Oh mio Dio, hai detto ho riuscito Ho riuscito a... a divenire S++ E poi che è successo? Qua su Void E poi che è successo? Poi che erano... hanno tolto iranka... hanno fatto la sere... la sere... la sere... l'ho... PSP di PvP e quindi... E' che vero, mi hanno raggiunto... tolgono... resettano tutto è morto da arpa ma tomo provo mi annoio il cliente è troppo facile così mi annoio qui c'era andiamo a fare in cancion di amel propria scendere stiamo andando mo aspetta spacchiamo un po' tutto qua qua sotto l'acqua promoccio scegliere t ti do ti do il baffo aspetti o qui ma non mi dà si l'ho preso presissimo però me l'hai dato quando non stanno più mostri ormai vabbè tanto dura 20 secondi 20 secondi mi dobbiamo aspettare qua per battere sti minuscolini puoi andare sott'acqua 6 secondi sono rimasti 20 secondi stai qua no ho finito a me che cosa fai? l'ho attivato senza di me ah no me l'hai attivato a me ok da qua è un po' tu e' fumo davanti l'anzicato e non ci stanno sti stronzi che mi lancia una parte all'altra sti puttani mi serve ma adesso la mana che volevo fare l'alberto ci fai tu le schifo fai tu e' la bufa tu la prossima lancio lo faccio io secondo me lo distruggi subito è morto cioè è mortissimo molto malissimo mamma mia allora ci facciamo l'ultimo dungeon per la prima volta 5 dungeon sto portando e se esce va bene dungeon andiamo a farci adesso di nuovo lanox burnt forest quindi foresta bruciata burnt forest burnt forest burnt forest senti io lo devo dire male lo devo dire male capisci se che mi sto bruciando male ma io non capisco perchè eh tu costa india è una cosa che mi chiedo da un sacco di tempo io che cosa faccio c'è presente quando o c'è presente lecce sotto gli mp la blu eh la va bebe la barra blu beh eh eh quando vai a fare le combo ecco ecco ecce sempre tu quella cambi aspetta non ho capito ah la vala che è sempre perchè mi dà fastidio che si scarico può darsi che mi serva per qualcosa di più importante capisci era infatti i lavori però non lo so allora ti dico quella azzurro più bernard che è sempre per il per il mano e per l'attacco magico ho capito mentre invece quella che c'ho io quella più scura che usi spesso anche tu critico oh il pigone guarda come l'ammazzo però poi rimango sempre senza mana che fastidio vuole utilizzare l'hyper oh mio dio questo settore utilissimo oh è ora di distruggere sta stronza ma guarda ma guarda che male che faccio adesso ho colpito almeno no non l'ho preso che schifo no che schifo di persona posso essere vabbè abbiamo capito che tu sei fortissimo ce l'hai fatto ce l'hai ribadito e continui a ribadirci che tu sei forte no non lo faccio non lo faccio no non mi va di farlo no non lo faccio l'ho fatto tu se vuoi non me la faccio proprio boh io direi comunque di chiudere il video e di finirlo qui grazie per le utilizzazioni spero che il video vi sia piaciuto commentate se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un commento iscrivetevi condividete e niente e più ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao